ciao a tutti in questo video mi sono ispirata alla fatto di un tatuaggio che ho visto in un video sul canale di cartesia intanto la saluto e le mando un bacio e metto il link del suo canale nell'info box lei sul suo canale principalmente fa origami con i tovaglioli di carta e nail art e anche altre cose molto carine se vi interessa seguite il tutorial ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.